Scusa, da quando c'è la... anzi no, per il Premier League, perché l'ultimo vinto era la Big League, che era ancora quella vecchia, tu Lorenzo sei ragazzino, sei giovane, io e Palumbo se la ricordavo bene la Big League, che passava su Copper Capodistria, bravissima, un uomo con il flaco, un bambino esatto, 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 erano altri tempi, erano altri tempi, e quei Liverpool insomma di John Aldrich, Peter Bursley, John Bounds, Ian Rush, ritornato dall'esperienza Juventina, Steve McManaman, Ronnie Whelan, Bruce Grobel, all'importa, eccetera, eccetera, sono passati, la bellezza era il campionato, se non erro, 89-90. Beh, l'anno di nascita, il mio anno di nascita. Eccolo, vedi, lo è? Pensa un po' a quanti anni so che il Liverpool vince il campionato. Ma comunque il Liverpool si è tolta anche qualche grossa soddisfazione in questi ultimi tempi, contro il Milan, con un portiere che non era un granché, se tu ricordi, Gelsi, come è che il portiere non era assolutamente in granché, riuscì a ipnotizzare tutti i rigoristi del Milan. Esatto. È vero, è vero, è vero. Fu una partita incredibile quella. Io c'ho avuto la fortuna di vedere, quell'anno, di vedere il Liverpool che poi vinse quella finale, al Camp Nou eliminò all'ottavo di finale il Barcellona di Rijkaard, che era campione in carica, vinse 2-1, io stavo alla tribuna alla gradinata in alto, al secondario, l'anello, era la mia prima partita di Champions League del Barça e perse questa partita. E anche l'ultima? No, assolutamente. Bene, gli scherzi. Il trend poi si è invertito. Si, il trend poi con Peppe è andato e quando Peppe cominciò io fece anche il preliminare di Champions. Beh, ma con Peppe non c'era neanche spazio alla scaramanzia insomma. Beh, insomma, no, no, scaramanzia c'era perché noi, io a Rick ritornavamo a casa, oppure quando andavo da solo, tornavamo, tornavo a casa a piedi, tornavo a casa a piedi, dal Camp Nou fino a Carrer Calabria 40, no, fino a Carrer Calabria 40, a piedi e purtroppo per la Roma, a me dispiace, non è una cosa, diciamo, contro e purtroppo ci fu una sera che, guarda la Roma uscì a rigore con l'Arsenal, io non sapevo nulla di questa cosa perché dal Camp Nou ritornavo a casa, passai su, che è la strada quella io, non me lo ricordo, ci devo riguardare, insomma un ristorante andaluso che c'aveva il televisore, il televisore è praticamente fuori, diciamo, vicino all'entrata e c'era la disperazione dei giorni della Roma, io non sapevo più niente, perché stava tornando, capito, a casa, a piedi e io non ricordo quel anno era quello lì, parliamo almeno del... forse è l'anno che il Barça ha vinto la Wembley, 2011, no, 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 vediamo un po', vedete, c'era Quartu, noi già avremmo avuto, eh, quarto avrebbe sparato una data, poi detto questo non era necessariamente, ah, adesso ho capito, funziona, funziona così, vediamo un po', andiamo su Champions League, salutiamo intanto Quartu con i suoi 10 punti di sutura, si starà sentendo, un saluto affettuoso a Luca Quartu, la Champions League 2008-2009, può essere, vuole essere giocava a Roma, poi a finale, che ha vinto il Barça, vediamo un po', se fosse questa qua, allora, Juventus, Inter, italiane, Roma, Roma c'è, Roma, Fenerbahce, però non mi sa che non è questa, andiamo, se il terzo turno, i gironi, 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 siamo 1-1 a Lione, o Goderri, poi 5-2, non è questa, no, 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 è questa, è questa, è questa, allora era Barcellona, Lione, 5-2, io tornavo da Camponodo che ci fu questa goleata al Barça di Pep e la Roma aveva perso 1-0 lì, di baltò il risultato all'Olimpico e poi quella sfortunata, il dominio completo dell'inglese della Champions League, Barcellona, squadra catalana, esatto, che poi hai detto bene il dominio, stiamo vedendo, sì perché diciamo nei quarti di finale, ecco vedo Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal in semifinale, Barcellona, Chelsea e l'altra Manchester United, Arsenal, quindi tre squadre inglesi in semifinale e quella che la spunta poi in realtà in finale è la catalana, Barcellona, non ce n'era per nessuno, no, beh però sai quella partita insomma la semifinale ai corcezzi, ma altrimenti queste sono le cose belle del calcio perché poi le cose nascono da cose molto 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 difficili, da situazioni difficilissime, voglio dire, te faccio una provocazione, se in la catalana fa il 2 a 2 a Torino, era un altro campeonato, quindi poi quella grande galoppata nasce proprio da episodi, insomma, esatto, va appena l'ultima cosa, insomma che dire, tornando alle questioni qui di casa del domani della Serie A, anche stasera, anche stasera c'è lì c'è il Milan contro il Chievo, ma domani insomma che ti senti di, che pensi, che risultati potrebbero avvenire, dunque se io avessi il pendolino di Maurizio Mosca probabilmente sarei a controcampo, dato che non ce l'ho, direi, dai, sasso, e so qua, e sono anche più contento di stare, molto bene, Sassuolo-Roma, non lo dico, Lazio-Parma, vince il Parma, 2 fisso, Sampdoria-Fiorentina X2, Torino-Cagliari 1 con l'handicap, vediamo proprio la schedina, Verona-Genua, attenzione, questa è una partita che può riservare qualche sorpresa, per me, Verona ultimamente, non dico che abbia smesso di giocare, però ho raggiunto la salvezza, insomma, non mi sembra così pungente come inizio campionato, per me, Verona è perduta fino a fine campionato, può darsi, sono nuove gare, e Napoli-Juventus nel serale, sicuramente una partita da seguire, secondo me, la Juventus, la Juventus porterà comunque a casa il risultato, e il Napoli, non, io, dunque, il Napoli, il Napoli fa buone partite ultimamente con le grandi, le altre, non dico che le topi, ma, diciamo, sembra meno concentrato, i numeri dicono, e meno concentrato, sicuramente, per quanto l'obiettivo il Napoli c'era ancora, no, che è la corsa al secondo posto, i punti in palio sono sei, la Roma ha una partita da recuperare contro il Parma, se non ricordo male, il 2 aprile, nel mercoledì, o meglio 80 minuti, ancora ci sono i margini, secondo me, per una rincorsa, dipende dal finale campionato della Roma e dal finale campionato del Napoli, sicuramente il campionato è chiuso per il vertice, nessuno si infilerà da sotto, secondo me, da sotto il Napoli, insomma, e nessuno considera Juventus che ha 14 punti di vantaggio sulla seconda, che è appunto la Roma, e secondo me è lì il campionato è chiuso, però per la Roma è importantissimo centrare la qualificazione diretta in Champions. Di centrare la qualificazione diretta in Champions, è certo, è fondamentale. Ci sono due motivi principali, il primo è una preparazione diciamo con i tempi necessari, prima per il recupero e poi per la preparazione stessa, la seconda probabilmente è anche un motivo di marketing, nel senso che la Roma ultimamente ha la buona pratica, questo non so, di andare un po' in giro per il mondo, in particolar modo negli Stati Uniti, a fare parte della sua preparazione. Secondo me non è un'idea malvagia, nel senso che per una squadra che ha un'impostazione di marketing molto forte, ma sicuramente la cosa più importante è la voglia di farsi conoscere dai sostenitori, da chi segue il calcio in tutto il mondo, queste possono essere buone iniziative. Al momento si è andato solamente negli Stati Uniti, chissà che tra qualche anno non si vada anche dall'altra parte del mondo, magari in Cina, dove il calcio sicuramente è molto seguito, non è ai livelli del calcio europeo, ma con un colpo di qua, un colpo di là, nel senso che adesso il Guangzhou di Lippi si è portato a casa Diamanti, che comunque sia è un prodotto calcistico nostrano, quindi è un calcio che ci segue, è un calcio che segue i nostri allenatori, i nostri giocatori, e chissà che non segua anche prima o poi le nostre squadre, i nostri club. Senti, ma ti volevo chiedere questo, oggi, uscendo un po' dal discorso, io ti ho detto due, Lazio Parma due, e tu hai confermato, perché tu hai il Parma, tu non hai vincito, mi viene qui, 2 a 0, figlio di un gol di Cassano, non perché ce l'ho io al fantacarcio, ma perché, voglio dire, con Novaretti e quest'arti scarsi, Scarza Cani, che lo dirà a comprare, insomma. Ma c'è anche il Parma che è una squadra molto solida, e Rodoni quest'anno ha fatto un buon lavoro, ha anche forse un po' di materiale in più rispetto agli ultimi scorsi, però il Parma è una squadra abbastanza solida, nelle ultime cinque partite, diciamo, il trend è negativo ultimamente, nel senso che ha fatto un pareggio e una sconfitta. Le tre precedenti, invece, sono state vittorie, ma è senz'altro una squadra solida, e che punta decisa all'Europa League. E che punta decisa all'Europa League, esatto. Quindi, oggi c'è stata la conferenza stampa del verministratore De Gea, che sostanzialmente ha accusato la colpa di tutto questo e la colpa dei difusi. Ma questa è una leggenda che si narra da tanto tempo in Casalazio, per la colpa dei difusi. Poi, in sincerità, bisogna pure dire che, io voglio dire questa cosa qui, un giocatore di calcio ha fermato, oppure che Lotito avessi soldi per comprarlo e per pagargli lo stipendio, poi vediamo se gli ho pagato tutto fino in fondo. Non gli ho pagato, non ci ha manchi i soldi per comprarlo, perché l'ho mai cacciato nero. Però avrebbe l'interesse, dopo i vari casi, casi Zarate, casi di Akite, cioè, chi può dalla Lazio se ne va ultimamente. Mi sembra più che giusto, io farei lo uguale. Oh, e questo quindi è un discorso, una critica che sicuramente la società deve porsi. Spostare la colpa sui difusi, perché? Perché i difusi non seguono una squadra che ultimamente l'unica soddisfazione che gli è dato a una finale di Coppa Italia. La partita più importante nella storia della Lazio forse è stata questa. La Lazio ha centrato l'obiettivo, però dopodiché, cioè nel senso, qual è il seguito? Esatto, nulla. Cosa ci si può aspettare dalla Lazio nei prossimi dieci anni? Ecco questo. Se non lottare per decimo posto, se te va male, pure lottare per la Serie B. Per una squadra che fattura, quanto fattura la Radica Madrid? Che fattura 60, un ricordo, 50 milioni di euro in meno della Roma. Che da Roma fattura quasi 200 mila. Un ricordo del 180 mila o 190 mila è qualcosa. Tu dimmi se... Va bene, tu hai colpa della società. Tu hai colpa della società, però la Lazio ha anche una situazione debitoria, che ha anche la Roma. Però probabilmente gli azionisti della Roma riescono a dare un po' più di... Certo, è vero, è ragione. Di sicurezza anche sul mercato. Adesso non so a quanto stiene i titoli, ma mi interessa poco questo. Il discorso è prettamente calcistico. C'è anche, secondo me, una divergenza tecnica, una divergenza proprio professionale tra un dirigente come Iglitare, che va a trovare, diciamo, giustamente la maggior parte dei talenti del suo paese e li porta alla Lazio. E invece Walter Zabatini, che in quest'ultimo anno, senza, diciamo, lo dico così, l'intralcio, anche se poi non era un intralcio, era semplicemente una collaborazione che non andava con Baldini, che adesso è andato al Tottenham, ha speso tanti di... Mamma mia, non ha ancora finito di spendere quelli di Bale, però ha speso tanti di quei soldi, eppure la squadra non si è costruita così. Non si è ancora costruita, insomma, per lottare a pieno per i vertici di quel campionato. Vero. Invece la Roma, ecco, ha scovato dei talenti... Scusa, attentano un po', perché il Bilbao è passato in vantaggio al Zama Messe contro l'Atletico Madrid. Quindi il Ciolo sta perdendo 1-0 al Zama Messe. Vai. No, dicevamo che quest'anno il dirigente della Roma, Walter Zabatini, ha coniugato esperienza alla ricerca anche di talenti ancora non sbocciati. Dei talenti non sbocciati probabilmente ne vedremo risultati, e spero che ne vedremo nei prossimi anni. Però, intanto c'è stato il recupero di un grande giocatore che ha dato un grandissimo, e sta dando un grandissimo contributo a questa squadra che Cervigno, un giocatore dato per finito da Arsene Wenger, che è uno che di calcio qualcosa ne sa, per quanto possa crescere.